La Procura della Repubblica di Teramo rende noto che negli ultimi due anni i reati di maltrattamento contro donne minori sono aumentati in provincia del 30%. Contestualmente sono diminuiti del 30% i tempi di indagini su tali crimini. Il Procuratore Antonio Guerriero spiega come siano state messe in campo dalla Procura Teramana tutta una serie di prassi virtuose in attuazione della recente legge sul Codice Rosso. Abbiamo attuato delle nuove linee guida che servono a rendere più rapide le indagini per questo tipo di reati e consentire quindi una tutela più immediata per le vittime di questi reati. Abbiamo accertato un incremento dei reati verso le fasce deboli, verso i più deboli di circa il 30% e abbiamo potuto invece operare con questi nuovi metodi una riduzione delle indagini che sono di circa il 30% più rapide. Quindi una tutela più immediata alle vittime e più efficace. Il Procuratore Guerriero inoltre afferma che la società odierna non ha pietà per i più deboli e ricorda come la Procura di Teramo abbia già da tempo istituito un pool di quattro magistrati donne per i casi di violenza di genere sui minori. Abbiamo un gruppo specializzato composto da quattro valorose magistrati. Poi stiamo pensando di creare un osservatorio per le vittime dei reati perché consenta di poter risolvere le problematiche non di tipo penale, esistenziali, quindi su piano legale, economico, con l'assistenza, quindi con la collaborazione di avvocati, psicologi e di tutto il mondo anche del volontariato cattolico.